Julio Migliaccio contende a Liverani la fascia di capitano, in questi giorni si deciderà qui nel ritiro di Badekline-Kirkheim chi dei due dovrà essere il capitano della squadra Rosa Nero, uno dei pochissimi giocatori del Palermo che in questa sessione di calciomercato non è mai stato messo in discussione, confermatissimo anche perché gode della stima e della fiducia di mister Colantonio. Ascoltiamo cosa ci ha detto oggi ai nostri microfoni. Sì, in effetti la società ha fatto un cambiamento quasi generale, siamo rimasti in pochi dall'anno scorso, sono stati acquistati giocatori importanti, giovani, di prospettiva ma già che possono dare tanto già da subito, anche essendo giovani. Carta sicuramente la squadra sulla carta, dico sembra inferiore come tasso tecnico, qualitativo rispetto allo scorso anno, però potrebbe essere questo invece per grande vantaggio e per grande rilancio. Io confido molto in come è operata la società, con le idee del nostro allenatore confido molto, ho preso gente molto motivata, con tanta voglia di fare bene e poi credo che anche da parte di chi è rimasto c'è quello spirito di rivarsi rispetto all'anno scorso, proprio di cancellare una stagione poco esaltante, ma lo dobbiamo per la società in primis, per la gente ma anche per noi stessi. E io guarda, ne sono fiero di far parte perché la società quando sembra, o meglio, ha rifiutato se è stata offerte importanti per me e per chi comunque vuole, anche su di me, io faccio parte, sono contento e orgoglioso di far parte di questo progetto. Io credo che comunque il Palermo merita di stare nelle prime 7-8 della Serie A, quindi la Coppa UEFA credo che sia il minimo per una piazza importante come Palermo. Ma certo, in effetti se ne è parlato tanto questa storia qui del capitano. Noi siamo arrivati da poco ritiro, quindi giorni ne parleremo tutti quanti insieme. Quando sembra dalle parole del Presidente nei giorni scorsi, anche del nostro allenatore, sarà Fabio a farlo, ma ciò non significa, ecco, non mi sento per nulla deglassato da questa cosa qui, perché l'ho detto più volte. Già il fatto che se ne è parlato per me è un motivo d'orgoglio questo qui. Ripeto, sento e nuto proprio la stima dei miei compagni di squadra, della società, della gente a Palermo, quindi non è una fascia che può cambiare il giudizio di una persona. Quindi sono sinceramente tranquillo.